Shalom! Di Agglomerato Zero, Daniele Sposito e Felice Caccavale. Almeno 128 morti, oltre 300 feriti, un'ottantina dei quali in stato di urgenza assoluta. È l'ultimo bilancio della serie di attacchi terroristici perpetrati venerdì sera in sei zone della capitale francese. Prima notizia. Una sparatoria a corpi di Kalashnikov in un ristorante nel decimo rondissement. La prima a interrompere le normali trasmissioni è BFM TV, l'attentato più sanguinoso con oltre un'ottantina di vittime, Albataclan, una sala da spettacolo molto conosciuta dai parigini, nella quale un commando è entrato in azione nel corso di un concerto cui assistevano 1500 persone. È subito chiaro che si tratta di una serie di attacchi coordinati. La prima a interrompere le normali trasmissioni è BFM TV. La prima a interrompere le normali trasmissioni è BFM TV. La prima a interrompere le normali trasmissioni è BFM TV. I nostri sogni, i nostri sogni sono tutti rivolti a quel bene insegnato da te. La prima a interrompere le normali trasmissioni è BFM TV. La prima a interrompere le normali trasmissioni è BFM TV. La prima a interrompere le normali trasmissioni è BFM TV. La prima a interrompere le normali trasmissioni è BFM TV. La prima a interrompere le normali trasmissioni è BFM TV. La prima a interrompere le normali trasmissioni è BFM TV. La prima a interrompere le normali trasmissioni è BFM TV. La prima a interrompere le normali trasmissioni è BFM TV. La prima a interrompere le normali trasmissioni è BFM TV. La prima a interrompere le normali trasmissioni è BFM TV. La prima a interrompere le normali trasmissioni è BFM TV.